Incastrato fra Carnevale e San Valentino, ecco un weekend con poche maschere ma abbondante vestizione di sciarpe, guanti e cappelli. Sta gradatamente confluendo nella dorsale adriatica, nelle Marche e nella stessa provincia di Pesaro Urbino, un flusso di aria artica che porterà neve, vento forte e un sensibile abbassamento delle temperature. Un'incursione invernale dalla Siberia che era prevista ma che rispetto a qualche giorno fa è stata ridotta per durata ma non per intensità. Secondo l'osservatorio meteorologico Alessandro Serpieri di Urbino, il picco del freddo in provincia di Pesaro Urbino è previsto nella notte fra sabato e domenica. Proprio domenica sono previste temperature fra i 2 gradi sotto zero e i 2 gradi a Pesaro e Fano, ancor più basse a Urbino dove potrebbero non superare lo zero. Temperature gelide anche lunedì in ripresa fra martedì e mercoledì. Oggi la protezione civile delle Marche ha emesso un bollettino di avviso di condizioni meteo avverse che per domani prevede deboli nevicate fino a quote di pianura nella prima parte della giornata. Possibili accumuli fino a 20 centimetri nell'immediato introterra, nevischio ma con scarso accumulo sulla costa probabilmente nel primo mattino. Fascia costiera dove è lecito attendersi raffiche di vento da nord-est con rischio di mareggiate. Sulle strade attenzione massima al rischio gelate.